E' davvero con grande entusiasmo che do il benvenuto a ciascuno di voi a questo speciale incontro dedicato alla meccanica quantistica e alla realtà. Sono Marco Cavaglià, presidente di QPP Serralmente e ricercatore qui al Politecnico di Torino. Iniziamo questa serata ringraziando i nostri ospiti d'onore, i professori Federico Laudisa e Angelo Bassi. La loro presenza qui oggi è un tributo alla ricerca e all'innovazione, che sono i temi che rappresentano il cuore pulsante di QPP Serralmente. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti voi qui presenti. La vostra partecipazione e interesse sono la forza motrice che ci spinge a organizzare questi incontri. Grazie alla vostra accoglienza siamo cresciuti fino a superare i mille partecipanti negli ultimi eventi e in questo. Una testimonianza tangibile dell'importanza della divulgazione della cultura scientifica. Un ringraziamento speciale va al Politecnico di Torino, che ci ha offerto il partenariato gratuito e che ha permesso di usare queste straordinarie strutture. La loro generosità, il loro sostegno, sono fondamentali per l'organizzazione e il successo di queste iniziative. Vorrei anche ringraziare la Direzione di Biennale della Tecnologia, con cui abbiamo stabilito una preziosa collaborazione. Questa partnership ci permette di espandere ulteriormente il nostro impatto e di portare avanti la nostra missione di divulgazione scientifica. Voglio inoltre esprimere il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine alla Fondazione Venezio e Banca del Piemonte la loro generosa donazione essenziale per il nostro lavoro e ci aiuta a mantenere questi eventi gratuiti per il nostro pubblico. Prima di iniziare voglio ora cedere la parola al curatore scientifico di Biennale Tecnologia, professor Juan Carlo De Martín, e successivamente al dottor Camillo Venezio, amministratore delegato e direttore generale della Banca del Piemonte, per un breve saluto a tutti voi. Grazie ancora per essere qui con noi questa sera e spero che troverete l'evento informativo, stimolante e arricchente. Grazie molto, il mio compito questa sera è rapidissimo, nel senso che da una parte voglio ringraziare gli organizzatori di questi incontri eccezionali che io ho scoperto perché dopo i primi incontri ospitati qua il Politecnico cominciavo a ricevere messaggi di posta elettronica io, il rettore, di svariati altri, di entusiasmo e vi assicuro che da organizzatore di eventi culturali non capita spesso. Quindi a un certo punto, dopo un certo numero di messaggi di posta elettronica, ho voluto conoscere i colleghi che organizzavano questi incontri per capire cosa stesse succedendo. Quindi grande gratitudine per l'organizzazione di questi incontri che con grandissima felicità ospitiamo qua il Politecnico perché è parte della missione dell'Ateneo, quella di promuovere la cultura, di divulgare la conoscenza, di permettere occasioni di confronto di questo tipo, quindi grazie molto per questa organizzazione. La seconda cosa è dire semplicemente due parole su Biennale Tecnologia. Questo è un incontro che abbiamo insieme deciso di etichettare come Aspettando Biennale Tecnologia 2024. Biennale Tecnologia è una manifestazione culturale ideata, progettata, organizzata dal Politecnico di Torino, appunto ogni due anni negli anni pari. La prossima edizione si terrà dal 18 al 21 aprile 2024 e l'obiettivo di Biennale Tecnologia è di riflettere un po' come fate stasera, un po' come farete a Biennale, se posso anticiparlo, riflettere sul rapporto tra tecnologia e società. Questo è un Politecnico, quindi la parte predominante del nostro pensiero, delle nostre attività è relativo alla tecnologia, in senso lato, e quindi Biennale Tecnologia è un'occasione per tre giorni e mezzo, quattro, adesso ci stiamo un po' espandendo, di riflettere in maniera ampia su appunto questo complesso e affascinantissimo rapporto tra le tecnologie, tutte le tecnologie e la società, quindi con aspetti politici, etici, sociali, eccetera, eccetera. Quindi questo incontro molto degnamente prepara il terreno per tra pochi mesi quando avremo finalmente l'edizione 2024. Quindi benvenuti e grazie ancora e passo la parola al dottor Venezio. Buonasera a tutti, due parole, io sono uno dei fondatori della fondazione Venezio, sono il vicepresidente, noi siamo una famiglia di imprenditori, la cui impresa è una banca, Banca del Piemonte che ha più di un secolo di vita e lavoriamo in Piemonte in Lombardia. La fondazione l'abbiamo fatta per sostenere il territorio in particolare su alcuni campi, naturalmente l'assistenza sociale, la ricerca scientifica e medica, cui io tengo personalmente molto, l'istruzione e la formazione. Questi sono i principali campi su cui stiamo lavorando. Noi crediamo molto nell'istruzione, nella formazione, nella ricerca e lo viviamo sulla nostra pelle di persone, di persone che credono nell'Italia, che credono nel Piemonte, che credono in Torino. Per darvi un'idea, un secolo fa, nel 1923, mia nonna è stata una delle prime donne a laurearsi in economia e commercio a Torino. E questa è una cosa che ci ha sempre resi orgogliosi, però è importante, è importante ed è una delle ragioni per cui noi sosteniamo questo tipo di incontri serali, avvicinare il grande pubblico alla ricerca scientifica avanzata. Perché c'è bisogno che ci sia sempre più a Torino, in Piemonte, in Italia, la consapevolezza di quanto sia importante la ricerca scientifica, quanto sia importante che la nostra nazione stia tra le prime in campo di ricerca scientifica, tecnologica, perché da questo poi discende un sacco di investimenti che fanno le imprese e quindi la crescita economica di ogni nazione del mondo. Come dico, l'ho vissuto sulla mia pelle, sulla nostra pelle. I miei figli si sono laureati in Italia, mio figlio si è laureato in Italia in economia, poi si è preso una laurea a New York University in matematica e poi fortunatamente è rientrato in Italia. Ora è il capo della direzione Data e Information di Banca del Piemonte e con lui c'è un team in larga prevalenza di giovani, alcuni e alcune delle quali si sono laureate in questo Politecnico che danno un grande supporto al cambiamento, all'innovazione, alla crescita di Banca del Piemonte in un mercato molto competitivo. Mia figlia anche lei si è laureata in Italia e poi a London School of Economics, ha lavorato in banche internazionali e poi ha lavorato per un certo periodo in Banca del Piemonte, poi ha sposato un fisico, un fisico, un ragazzo molto in gamba, che insegna e fa ricerca nel quantum computing, quindi una cosa che c'entra abbastanza con quanto ci racconteranno i professori questa sera. Purtroppo, purtroppo da padre lo dico, lavora e insegna e fa ricerca a Houston, Texas, in una grande università texana, Rice University. È chiaro che loro vorrebbero tornare e io spero che ritornino. Ci devono essere le condizioni, non dico solo in Italia ma in Europa, perché in questi campi di ricerca avanzata ci sono certe zone nel mondo come gli Stati Uniti, ma non solo gli Stati Uniti, anche la Cina investono veramente tantissimo. Quindi noi crediamo profondamente in questo tipo di iniziative, ripeto, di divulgazione, di avvicinamento del grande pubblico alla ricerca scientifica, che si comprenda quanto è importante e che serva perché a tutti i livelli, a Torino, a Piemonte, in Italia, vi sia consapevolezza che il futuro è nelle nostre mani. Abbiamo una storia meravigliosa nel passato, ma dobbiamo continuare a innovare, investire, crescere, cercare cose nuove per essere all'onore del mondo, come siamo stati tanto tempo nella nostra lunga storia, veramente tra le migliori nazioni del mondo. Buona serata a tutti e grazie. Lascio ora la parola a Michele Caponigro, che in realtà è il vero fautore del format di di Serralmente. Grazie Marco. Allora, mi argancio solo velocemente a quello che ha detto il dottor Venezio. L'obiettivo principale di Serralmente è proprio il grande pubblico e le conferenze hanno questa peculiarità, sono interdisciplinari. Di conseguenza anche il pubblico che ci segue ha le stesse caratteristiche. Noi questo lo capiamo dalle email. C'è un pubblico che è trasversale e ha un background eterogeneo. Questo secondo me è il segnale che la divulgazione scientifica raggiunge un certo obiettivo. Perché, lo ne parlavo prima anche con colleghi, se uno fa una conferenza di biologia e vengono solo i biologi. Secondo me quello è importante, ma non è la divulgazione che noi abbiamo in mente, perché deve essere in questo modo trasversale. Questo è il punto per me chiave della questione. Detto ciò, intanto vi ringrazio per essere qui. Adesso presento i due relatori, cercherò di non leggere nulla, dimenticherò sicuramente qualcosa. Allora, vi presento i due graditi ospiti. Il professor Angelo Bassi dell'Università di Trieste e il professor Federico Laudisa dell'Università di Trento. Allora, comincio con il professor Angelo Bassi. Angelo Bassi è professore ordinario di fisica teorica, appunto all'Università di Trieste. Si occupa di fondamenti della meccanica quantistica e quindi è anche coordinatore a livello internazionale di questi studi. Tra l'altro ho presentato questi studi anche in istituti molto importanti, forse deputati proprio a questo tipo di ricerca, che sono ad esempio, mi viene in mente l'MIT, Harvard, la Columbia University. Poi so che ho rilasciato anche delle interviste su riviste molto importanti come New York, Times Magazine e poi anche le scienze. Attualmente scrive per Repubblica, sono gli articoli che riguardano sempre la meccanica quantistica e le tecnologie quantistiche. Direi un bel curriculum. Ok. Poi passo al secondo ospite che è Federico Laudisa, che è professore ordinario all'Università di Trento e di Logica e Filosofia della Scienza. Anche lui nei suoi lavori è presentato molto all'estero. Se non mi ricordo bene la città, forse Manchester, Parigi, Cambridge, giusto? Sì. E ha scritto dunque anche molti libri divulgativi e questo è molto importante da molto tempo. Soprattutto della Carocci, qualcosa della Terza e soprattutto ultimamente sulla Bollati Boringhieri. Io ne ricordo adesso solo qualcuno, forse della Carocci è la causalità, della Bollati Boringhieri sono più recenti, 2019, la realtà ai tempi dei quanti e in ultimo, che questo è appena uscito, penso recentemente, qualche mese fa, dal titolo Dalla Fisica alla Filosofia naturale. Mi sembra aver detto tutto. Adesso come si svolge la serata? 30 minuti per ogni relatore, alla fine le domande vostre, del pubblico, chiederemo a loro se è possibile poi scendere nelle aule, quelle streaming, magari così vedono, per fare solo qualche domanda, va bene? Ok. E quindi adesso possiamo iniziare, inizia il professor Federico Laudisa e cedo a lui la parola. Grazie. Allora, prima di tutto i miei ringraziamenti agli organizzatori, al Politecnico, sono molto felice, anche onorato di essere qui e grazie a tutti voi per essere qui, essere usciti di casa la sera con la pioggia e venire a sentire, parlare di meccanica quantistica. Allora, due parole per diciamo, permettervi di, così, valutare insomma quello che io vorrei dirvi. Io mi occupo di filosofia della scienza e mi sono, diciamo, occupato per quasi tutto il tempo, insomma, che ho dedicato alla ricerca a questioni di, appunto, filosofia e fondamenti della fisica quantistica. Quindi, diciamo, mi sono proposto di dare qualche spunto di riflessione, di elementi di introduzione a questi temi, soprattutto sia in generale sia, diciamo, per le mie competenze, con, appunto, l'obiettivo di mettere in luce quanto grande sia lo stimolo che questa teoria e tutto ciò che gira intorno abbia prodotto sulla riflessione filosofica. Però anche di suggerire l'idea che questa interazione tra la fisica, la scienza in generale, insomma, oggi parliamo di fisica e la filosofia non sia, certo, una novità che è arrivata sulla scena con la meccanica quantistica, solo perché la meccanica quantistica è un po' strana, allora i filosofi che sono un po' strani anche loro si occupano di meccanica quantistica. Quindi, diciamo, di trasmettere alcune, così, grandi lezioni culturali che vengono da una considerazione improspettiva della storia, della cultura filosofica e scientifica, e poi, alla fine, naturalmente, porre l'attenzione su quelli che, insomma, con un grande consenso, insomma, sono considerati i fattori più importanti, diciamo, di tensione fra una certa, così, immagine del mondo ragionevole che ci siamo, così, costruiti nel tempo e, invece, appunto, diciamo, indicazioni che sembrano venire dalla teoria in direzione completamente opposta. Quindi quali sono questi motivi principali e perché, quindi, diciamo, altre comunità, altri intelletti sono stimolate e coinvolti dentro questa teoria e non solo quelli, le persone che si occupano professionalmente, insomma, della teoria. Quindi io vorrei partire da questa domanda molto generale. Perché la filosofia si interessa alla fisica e perché la fisica ha delle implicazioni sul pensiero filosofico? Intanto, un'osservazione che mi capita di fare molto spesso in situazioni del genere è un'osservazione molto semplice, molto di base, che però, nonostante la sua semplicità, è estremamente importante per qualificare tante cose che stanno dentro questa area di interesse. Cioè che, in realtà, sulla scala temporale dell'evoluzione culturale umana, scienza e filosofia sono due ambiti separati da poco tempo, molto poco tempo. Quindi, intanto, questo comporta che non sia un caso che interessi che oggi noi qualifichiamo come filosofici e che qualifichiamo come scientifici si trovino a interagire in modo importante. Perché questo è quello che sostanzialmente hanno sempre fatto quando non c'era una distinzione di diritto tra indagine scientifica e indagine filosofica. Questa è una, diciamo, semplice lezione di storia della cultura che però ha un grande valore da questo punto di vista. È vero che, a partire da questo, diciamo, evento, chiamiamolo per semplicità evento, cioè la rivoluzione scientifica, i destini di queste due letture del mondo si sono, diciamo, definiti, si sono differenziati in modo decisamente importante, anche professionalmente, disciplinarmente, insomma, i linguaggi sono molto cambiati e così via. Quindi, in questo senso, il problema della relazione tra la scienza, nel nostro caso la fisica e la filosofia, è diventato più spinoso, più complesso. In particolare, un punto, a mio parere, importante che motiva un interesse profondo della filosofia verso la fisica è che, a partire dalla rivoluzione scientifica, cioè da appunto questa fase in cui la fisica, come noi la conosciamo oggi, comincia ad assumere una fisionomia distinta, separata da tanti punti di vista, ha prodotto quelle che è ragionevole chiamare delle immagini del mondo. Quindi ha prodotto tanti risultati di varia natura tecnica, formale, poi applicativa, insomma, in tanti settori, ma sicuramente ha suggerito, in modo molto importante, delle visioni, delle immagini del mondo, quindi delle idee su come porzioni di mondo naturale sono fatti, qual è la loro struttura, quali le leggi fondamentali, quali proprietà. Ecco, da questo punto di vista, per il loro bagaglio, i filosofi in generale, io non parlo solo di filosofia della scienza, insomma i filosofi, anche quelli coinvolti nella nascita della rivoluzione scientifica, sono stati naturalmente interessati a questioni relative all'immagine del mondo, quindi queste immagini del mondo che via via la scienza proponeva e che risultavano progressivamente sempre più ardue da comprendere dal senso comune, hanno cominciato a porre questioni che i filosofi non potevano evitare di affrontare. Quindi questo è un punto, a mio parere, estremamente importante. È un punto importante legato a questa idea e che secondo me è molto importante anche quando riflettiamo appunto sul significato filosofico, le implicazioni filosofiche della meccanica quantistica che è così strana, così enigmatica e così via. Pone sfide al senso comune. Un'altra lezione, diciamo, di storia della cultura è che questa sfida al senso comune nasce con la scienza stessa. Non abbiamo dovuto attendere la meccanica quantistica per renderci conto che la scienza, diciamo, migliorando, procedendo, costruiva delle immagini del mondo che erano in tensione con il senso comune. Questa è una caratteristica costitutiva della scienza moderna. Quindi non è che è andato tutto bene, d'amore e d'accordo, finché la meccanica quantistica ci ha fatto vedere che il mondo era più strano di quanto pensavamo. Da quando Galileo, Newton, Cartesio hanno fondato la scienza moderna, la scienza ha costruito dei modelli del mondo che sono stati sempre più ardui da comprendere per il senso comune. E questa è una delle grandi lezioni culturali della nascita della scienza, che si ripropone, vedremo insomma qualche elemento più preciso, si ripropone sicuramente ad una scala inconfrontabile rispetto al passato nel caso della meccanica quantistica. Però è una, diciamo, una dimensione ineliminabile del pensiero scientifico, quello di proporre dei modelli, delle immagini del mondo, rispetto alle quali l'immagine, diciamo, di senso comune, anche sofisticata, è inevitabilmente in tensione. E a questo proposito, diciamo, torna sempre buona qualche citazione galileiana. Questa è una citazione molto famosa, spesso, spesso, diciamo, interpretata in modo, insomma, non sempre soddisfacente. Qui Galileo parla in terza persona, ma sta parlando di se stesso, visto che, diciamo, la modestia non era una delle doti più spiccate di Galileo. Lui dice, non posso ammirare l'eminenza dell'ingegno di quelli che, con la vivacità dell'intelletto loro, hanno fatto forza tale ai propri sensi, che abbiano potuto anteporre quello che il discorso, che è la teoria, il discorso qui è la teoria, dettava quello che le sensate esperienze gli mostravano apertissimamente in contrario. Quindi questo è una grande lode della capacità, del coraggio della scienza di andare al di là delle sensate esperienze, cioè di ciò che appare a un livello intuitivo, no? E questo è esattamente quello che la scienza moderna ha cominciato a fare da allora, non da adesso, da allora. Sicuramente, quindi detto questo, che comunque, ripeto, ve lo propongo perché secondo me è un messaggio della storia, della cultura scientifica e filosofica, semplice ma molto importante, per capire qual è la missione della scienza e perché da filosofi ci interroghiamo su quello che la scienza dice del mondo. Sicuramente, quindi non intendo con ciò dire che la meccanica quantistica non propone sfide al senso comune, le propone come, e questo si può certamente dire, segna un salto di qualità nell'intensità di queste sfide al senso comune. Cioè c'è abbastanza diffusa, no? La consapevolezza che la scala, l'ordine di grandezza al quale si pongono queste sfide sia di carattere diverso e non facilmente, diciamo, riconducibile al passato. Perché, diciamo, nella storia della scienza moderna, appunto, queste tensioni con senso comune, questa difficoltà di rendere conto delle novità, alla fine queste difficoltà hanno sempre trovato una composizione, si è sempre arrivati, tutto sommato, a una buona coesistenza tra ciò che la scienza dice rigorosamente e ciò che abbiamo accettato riguardo all'immagine del mondo suggerita da queste teorie. Ecco, questo punto è un punto che nel caso della meccanica quantistica è tuttora, secondo alcuni lo sarà di principio, in una situazione di tensione molto forte. Quindi nella meccanica quantistica questa composizione tra la teoria che si insegna, che si usa, che si sviluppa e l'immagine del mondo che noi speriamo di trarre da questa teoria, appunto in questa attitudine filosofica, questo rapporto è un rapporto molto controverso, di forte tensione, con dei caratteri, appunto, irriducibili al passato, al punto da, diciamo, indurre alcuni che partecipano a questo dibattito, sia, diciamo, di parte scientifica, di parte fisica, di parte filosofica, a pensare che questa composizione forse potrebbe non essere raggiungibile per motivi proprio interni a questa, diciamo, questo confronto, insomma. Allora, la meccanica quantistica, come sapete, è nata all'inizio del Novecento e se si ha appunto un occhio attento alle così circostanze filosofiche, culturali, concettuali, beh, il periodo di incubazione, di sviluppo della teoria che coincide con sostanzialmente i primi 30-40 anni del Novecento è un periodo di strabiliante intensità intellettuale, lo è anche praticamente in ogni campo della cultura europea, ma sicuramente nella scienza e nella fisica questo si verifica in un modo eclatante e con, appunto, la conseguenza di dar vita a un periodo estremamente intenso al quale partecipano alcuni elementi più importanti del periodo, appunto, in cui la componente di sviluppo, consolidamento strettamente tecnico della teoria si accompagna a un fervore di discussioni sul significato di ciò che si andava costruendo un periodo che probabilmente non ha uguali nella storia della fisica, né precedente né successiva. Quindi è un periodo di enorme interesse dal punto di vista dei processi di elaborazione della teoria e tutti, appunto, i più grandi nomi che poi sono ricordati, insomma, in qualunque testo che si occupi di questo sviluppo, sono stati coinvolti con posizioni molto differenziate su temi che, appunto, la ricerca poi successiva ha avuto titolo di chiamare fondazionali, cioè temi di carattere scientifico che però coinvolgono una riflessione sul significato in qualche modo ultimo delle categorie che si stanno usando per costruire questa teoria. Quindi, qui c'è Planck, von Neumann, queste due immaginette io le ho messe in qualche modo come limite iniziale e finale di questi anni, perché Planck, appunto, nella sua comunicazione del dicembre 1900 simbolicamente è considerata l'origine della teoria, von Neumann nel 1932 pubblica un trattato in cui espone la formulazione matematica che è sostanzialmente quella tuttora accettata dalla teoria, chiudendo, insomma, un po' una parabola in cui siamo arrivati alla costruzione della teoria. In questo sviluppo ha assunto una, diciamo, una posizione di preeminenza, una particolare interpretazione della teoria che per motivi un po' controversi, insomma, gli storici non sono d'accordo, tutti d'accordo sulle circostanze fini di questa denominazione, però una interpretazione che è stata chiamata di Copenhagen in omaggio al ruolo che Niels Bohr ha esercitato in questi anni, insomma, un'interpretazione che si è, diciamo, cristallizzata in un certo senso in una direzione che poi potremmo parlare anche dopo, ne parlerà il professor Bassi, in una direzione che così per comodità chiamiamo pragmatica. Poi l'analisi degli storici ha fatto vedere e continua a far vedere che gli eventi biografici specifici, le posizioni specifiche sono invariabilmente molto più ricche di queste formule che poi purtroppo vengono, diciamo, assegnate e ingabbiano, no? I protagonisti in delle visioni spesso molto banalizzate, distorsive, eccetera. Però è un fatto che questa teoria è stata codificata in un'interpretazione che trasmette un senso molto pragmatico, operazionale, molto, da un certo punto di vista, consentitemi questo aggettivo, rinunciatario nei confronti e delle ambizioni di spiegare il mondo. Appunto, e quindi questa grande ricchezza concettuale, grande differenziazione, alla fine poi dopo questo periodo così grande, così denso, no? Che arriva fino a grosso modo alla metà degli anni Trenta, la ricerca in questo campo, in questa, in certo senso, sovrapposizione per certi aspetti tra fisica di base e interrogazione filosofica praticamente scompare per una trentina d'anni e riappare all'inizio degli anni Sessanta in larga misura grazie all'opera di questo grande fisico irlandese che si chiamava John Stuart Bell che ha svolto un suo ruolo di enorme importanza, anche qui ne parlerà adeguatamente il professor Bassi. Allora, uno dei modi canonici e del tutto corretti, insomma, per rinviare, per trasmettere bene il senso di questa interazione tra fisica e filosofia è il riferimento a questo termine, interpretazione. questo termine gioca un ruolo peculiare nel caso della meccanica quantistica nel senso che è legato a una circostanza innegabile e operante che però è una circostanza molto enigmatica, molto difficile, molto impegnativa e anche probabilmente unica nello sviluppo della scienza cioè nel caso della meccanica quantistica c'è una divergenza drammatica tra l'efficacia predittiva, applicativa, sperimentale, operativa della teoria che è straordinaria, probabilmente ai livelli più alti nella storia della fisica da un lato e il, diciamo, il dissenso molto largo su come questa teoria debba essere interpretata quindi questa è una circostanza molto curiosa e molto impegnativa, molto stimolante da un lato secondo alcuni addirittura quasi irritante perché, ripeto, una teoria che è empiricamente efficace al di là di ogni esempio passato non produce in modo naturale una interpretazione ma le persone dissentono gravemente quindi non per dettagli dissentono in modo molto radicale su cosa sia ciò di cui la teoria parla nel senso descrittivo, rappresentativo nel senso di quella immagine del mondo di cui dicevo prima queste due situazioni convivono e sono oggetto di ricerca questo è un fatto che non riguarda credo nessun'altra teoria scientifica di questa, diciamo, portata poi va bene, in più c'è il problema che questo lo cito, lo butto lì semplicemente che il termine stesso interpretazione non è univoco nel suo significato quindi complichiamo ulteriormente la questione perché non solo c'è il problema di come interpretare la teoria ma cosa intendiamo con l'interpretare una teoria su queste cose i filosofi naturalmente vanno a nozze perché c'è un sacco di lavoro per noi e quindi queste complicazioni in realtà ci rendono felici diciamo così ma a parte queste questioni su cui ovviamente non possiamo risolvere niente possiamo immaginare ragionevolmente una interpretazione come qualche cosa che comprenda almeno una descrizione di una certa porzione di mondo che la teoria è deputata, diciamo, a descrivere e una spiegazione dei processi, delle leggi, delle strutture fondamentali in accordo con quella descrizione lì detto così, sembra la cosa più ovvia del mondo però questi sono esattamente i termini su cui il dibattito e i suoi fondamenti mostra che è difficile superare il livello appunto della discussione perché non si è d'accordo su cosa si intenda per descrizione su cosa si intenda per spiegazione per caratteristiche peculiari di questa teoria di cui, insomma, dirò qualcosa di lievemente più preciso tra poco, insomma, nella parte finale Allora, un aspetto particolarmente, appunto, diciamo inquietante stimolante e inquietante al stesso modo è che esiste una struttura formale della teoria su cui c'è un pieno accordo questa struttura formale è compatibile con molte interpretazioni diverse in questo caso, appunto, data la mia deformazione professionale l'ho messa un po' in termini così per fare effetto ma in realtà sono i termini della discussione ci sono molte ontologie diverse cioè molte immagini del mondo fisico diverse tra di loro incompatibili ma tutte compatibili con un'unica struttura formale salvo, Angelo mi perdoni, quella... diciamo, l'interpretazione, il modello a cui Angelo Bassi ha lavorato di più non rientra in queste perché in realtà sarebbe distinguibile però gli chiedo scusa per questa, diciamo, imprecisione per essere, diciamo, rigoroso a proposito della quale mi prenderebbe un po' troppo tempo però, diciamo, rimane il fatto che con questa molto significativa eccezione queste ontologie, diciamo così queste immagini del mondo, queste interpretazioni sono tra di loro irriducibili ma tutte, entro certi limiti, empiricamente equivalenti e compatibili con un'unica struttura della teoria quindi la struttura di per sé non privilegia in modo naturale una o l'altra di queste interpretazioni questo è un fatto strutturale quindi è chiaro che dal punto di vista dei filosofi che si interessano del rapporto tra teoria e realtà su qual è il compito delle teorie scientifiche la loro missione dal punto di vista esplicativo e non soltanto applicativo questi sono problemi molto scottanti allora, naturalmente, diciamo, non mancano periodicamente questo è un esempio neanche troppo recente ma ogni tanto, appunto, periodicamente ci sono questi esempi ci sono sempre personaggi normalmente della comunità fisica che dicono che questi non sono affatto problemi reali che la teoria funziona benissimo che non c'è nessun bisogno di interpretazione concio stesso, diciamo, dando un'interpretazione della teoria cioè, dicendo, l'interpretazione pragmatica va benissimo queste sono tutte chiacchiere che non cambiano lo stato della conoscenza fisica diciamo, questa è una tra le posizioni era abbastanza popolare fino a non tanto tempo fa però, ecco, c'è da dire che posizioni di questo tipo sono, almeno nel campo in cui si ritiene interessante discutere di queste cose sono un po' meno popolari di una volta perché, diciamo, un aspetto anche, se volete di sociologia della fisica contemporanea è che discussioni di tipo fondazionale si sono dimostrate si dimostrano in realtà ricche di di spunti anche per la ricerca scientifica stessa quindi l'attitudine è un pochino cambiata nei confronti di questi discorsi che alcuni hanno considerato interessanti da sempre però anche la comunità scientifica magari parte della quale o larga parte della quale scettica verso queste cose ha, credo di poter dire, un po' modificato il suo atteggiamento anche alla luce del fatto che ci sono settori della ricerca fisica come si usava a dire in modo così un po' forte di frontiera nelle quali ci si rende conto che, diciamo, porsi problemi di natura fondazionale non solo è importante ma a volte è l'unica cosa veramente importante da fare quindi questo tipo di ragionamenti di categorie di strumentazione concettuale torna utile ecco, quindi da questo punto di vista la situazione forse è un pochino cambiata non so, Angelo Bassi, cosa ne pensi a proposito ma ne possiamo parlare allora, mi avvio alla conclusione sottoponendo a vostra attenzione quattro punti diciamo in cui c'è un ampio diciamo consenso sul fatto che siano elementi di tensione fra la teoria e un certo modo intuitivo di considerare insomma il mondo naturale allora faccio una osservazione come dire come si dice un disclaimer su quello che sto per dire il modo in cui io vi presenterò molto scientificamente questi punti è come dire si riferisce quindi sta sullo sfondo di di questa interpretazione standard della teoria ok? quindi se noi andassimo più nel fine e cominciassimo a prendere in considerazione diverse interpretazioni ci sarebbero sicuramente esponenti di queste interpretazioni che non sarebbero d'accordo sul modo in cui io vi presento questi punti ok? quindi diciamo avverto che il modo in cui li presento soffre di una certa ambiguità perché faccio riferimento a un quadro interpretativo standard che ha i suoi problemi però diciamo in questa sede con gli scopi che mi propongo credo che anche con questi diciamo limiti con queste precisazioni questi siano punti che sono utili per evidenziare in che senso c'è una tensione fra questa teoria scientifica e categorie di pensiero che noi abbiamo ritenuto intuitive per rappresentarci il mondo là fuori e che sono messe in crisi da questa teoria ecco bene chiusa il discleno allora una prima nozione è quella che riguarda una condizione che potremmo chiamare di oggettività cioè l'idea molto ragionevole alla luce di tutta la fisica precedente che i sistemi fisici oggetto di studio a parte le teorie fisiche siano delle entità dotate di proprietà che non dipendono dal fatto che noi andiamo a investigare la natura proprietà diciamo oggettive nel senso che non dipendono dalla nostra volontà di indagarle e preesistenti al fatto che noi ci interroghiamo sulla loro sussistenza d'accordo? ecco questa idea che è del tutto pacifica rispetto alla diciamo tutta la fisica prequantistica non è a proprio agio con la meccanica quantistica cioè la meccanica quantistica non consente di usare questo linguaggio di attribuzione di proprietà ai sistemi che studia quindi da questo punto di vista se vogliamo usare questo termine vago mi rendo conto oggettività che può voler dire tutto e niente però in questi termini insomma strumentali in cui lo sto usando la meccanica quantistica da questo punto di vista è in un rapporto di tensione con questa intuizione di oggettività quindi primo punto non banale secondo punto riguarda la nozione di osservazione noi siamo sempre in questa diciamo intuizione di senso comune o pre-quantistica abituati a pensare con buone ragioni no che diciamo la teoria abbia principalmente lo scopo di descrivere il mondo la fuori e che una parte derivata importantissima ma diciamo non fondamentale sia quella che descrive come noi osserviamo la natura la realtà ecco nel caso della meccanica quantistica il ruolo che la nozione di osservazione assume è invece un ruolo primario al punto questo diciamo ve lo presento in modo come dire esplicitamente un po' come provocatorio se volete al punto da indurre alcune versioni insomma radicali a così intrattenere l'idea che in un certo senso anche se magari analogicamente l'osservazione contribuisca addirittura a creare le proprietà che io poi attribuisco ai sistemi che studio questo è ripeto quindi è legato al ruolo completamente diverso che ha la nozione di osservazione dentro la teoria la meccanica quantistica nella sua versione standard sembra una teoria quasi esclusivamente deputata a descrivere l'osservazione cosa poi ci sia al di fuori o prima o indipendente dall'osservazione pare che non sia compito della teoria questo è anche estremamente anomalo rispetto a una tradizione diciamo di storia della scienza della fisica poi la la nozione di lo statuto diciamo dell'idea di probabilità che è una nozione che come noto non è stata certo introdotta dalla fisica quantistica per la prima volta nella scienza ma assume sempre sotto appunto l'ipotesi di questa formulazione usuale assume diciamo un carattere in qualche modo di condizione intrinseca del mondo descritto dalla teoria quindi la probabilità quantistica è una probabilità che descrive qualche volta si dice una forma intrinseca di aleatorietà quindi in una direzione che anche qui ha determinato insomma una serie di inquietudini filosofiche insomma sul ruolo di questa questo carattere diciamo intrinseco della probabilità e infine la questione di cui parlerà con tutt'altra accuratezza Angelo Bassi la nozione di entanglement è connessa a questo questa importante fondamentale condizione di non località che la teoria quantistica insomma suggerisce di cui suggerisce l'esistenza questa idea di entanglement sostanzialmente ora sarò drammaticamente impreciso mi scusa in anticipo molto vago quindi appunto fortunatamente c'è il fisico teorico che mette le cose a posto però dal punto di vista di questa famosa immagine del mondo dei nostri tentativi filosofici comprendere queste cose è una circostanza che ha a che fare con un modo molto peculiare che ha la teoria di descrivere l'interazione tra sistemi fisici nel senso che ci sono situazioni in cui in questa interazione si introduce chiamiamola una forma di dipendenza tra sistemi fisici che ha delle proprietà che nessun'altra teoria non quantistica ha mai messo in luce e in certe situazioni questa condizione di dipendenza porta a rivelare che questa dipendenza sopravvive tra virgolette anche tra sistemi che sono molto lontani tra di loro per cui appunto da cui la condizione non località e da cui gli sforzi di comprendere la natura di questa condizione il tentativo di integrarla nella teoria di darne una sistemazione in termini esplicativi e descrittivi insomma ragionevoli ultimissima cosa mi fa molto piacere fare questo riferimento perché è uno dei campi in cui il professor Bassi ha lavorato molto insomma ha dato contributi estremamente importanti il problema qualche volta insomma esposto in questa forma della universalità della teoria cioè se si debba accettare che che questa teoria sia una teoria fondamentale in un senso serio dell'aggettivo fondamentale e di conseguenza se si debba accettare che qualunque possibile sistema fisico oggetto processo a quella scala lì sia soggetto alle leggi di questa teoria il che diciamo comporta una serie di questioni fondazionali molto importanti di problemi fondazionali importanti il più serio dei quali lo butto là perché non posso far diverso è il cosiddetto problema della misura in meccanica quantistica questo problema misura che ha diciamo determinato una grande quantità di studi importantissimi di carattere fondazionale dipende in modo diretto da questo problema cioè se la teoria debba essere considerata una teoria universale quindi che si applica sia ai sistemi studiati sia agli strumenti che studiano i sistemi oppure no questo è un grande problema di principio e si prendono strade diverse a seconda di come lo si vuole affrontare grazie mille bene mi sentite credo adesso ok allora già devo intanto che si collega il mio computer quindi il professore Laudisa prima ha parlato della recente separazione tra la disciplina filosofica e la fisica e potete vedere uno degli effetti di questa separazione i filosofi tipicamente parlano seduti i fisici sono incapaci fanno la lezione un'altra cosa i fisici sono incapaci di parlare seduti devono parlare in piedi perché devono muoversi non c'è la pazienza la pazienza del filosofo ringrazio anch'io gli organizzatori per il gentile invito e per tutto lo sforzo organizzativo ringrazio voi per essere presenti stasera e come già anticipato Federico prima tenterò di un compito che non è facile di spiegare non tanto cos'è l'entanglement ma in particolar modo cosa sono le correlazioni quantistiche l'entanglement in qualche modo è la formulazione matematica di questo concetto delle correlazioni quantistiche e cosa c'è di speciale in queste correlazioni e forse qualcuno l'avrete visto voi comincerò con un gioco parlando di correlazioni delle correlazioni classiche perché una delle cose più difficili penso che concorderà in questo anche tra i fisici è spiegare cosa c'è di strano le correlazioni quantistiche sono come quelle classiche palla rossa palla gialla sono correlate non c'è molto da dire allora provo giusto per iniziare in maniera un po' divertente visto che è già tardi insomma è sera con un gioco non c'è nessun trucco particolare un gioco molto semplice le vedete le due palline e vi chiedo di reagire in maniera molto rapida per alzata di mano vi chiedo vediamo spero che non si vedano a sinistra che cosa ho la gialla o la rossa per alzata di mano chi di voi dice la gialla bene giù chi di voi dice la rossa esperimento riuscito direi e allora esperimento riuscito nel senso che era la gialla era quindi ha venuto la gialla ma quello che mi interessava è questo quello che mi interessava cosa emerge adesso devo fare il fisico quindi devo analizzare un po' quello che è successo voi non vi siete visti ma noi abbiamo visto abbastanza bene ci sono due elementi che sono emersi che poi caratterizzeranno il mio intervento questa sera uno è la reattorietà non sapevate non avevate tutte le informazioni non avevate quindi potevate interare e indovinare e il gioco era tale che tirare e indovinare voleva dire 50-50 e per la seconda volta più o meno no 50-50 l'altro elemento fondamentale sono le correlazioni una volta che avete abbiamo visto era al contrario una volta che abbiamo visto che a sinistra c'era la gialla a destra doveva esserci la rossa correlazioni classiche che non hanno nulla di particolare non hanno perché se sono queste lo sappiamo sono due palle vi ho fatto vedere una gialla una rossa all'inizio non sapete qual è qui è la gialla qua ci deve essere la rossa non c'è nessuna nulla di particolare in questo gioco che ormai può affascinare i bambini piccoli affascinano lo faccio a mio figlio si diverte un adulto stasera siamo divertiti ma insomma è chiara la cosa è più un gioco le cose cambiano però con la meccanica quantistica se queste invece di essere come sono delle palle classiche fossero delle palle quantistiche sarebbero degli atomi degli elettroni qualcosa del genere è chiaro che non dovremmo parlare del colore dovremmo parlare di altre proprietà la posizione l'impulso lo spin l'energia di un livello energetico di un atomo continuiamo a parlare del colore se fossero delle palline delle palle quantistiche quello che succederebbe quello che ci dice la teoria non quello che succede è quello che dice la teoria quello che accade in natura lo sa solo il buon Dio quello che succederebbe è che prima di fare l'osservazione Federico ha parlato spesso di osservazione prima prima di fare l'osservazione prima di fare la misura non è legittimo affermare così ci dice la fisica che c'è un colore definito non è un'affermazione fisica non è che qua a sinistra c'è la palla gialla o la palla rossa o viceversa a destra la palla gialla e la palla rossa solo al momento dell'osservazione è sempre gialla non so perché al secondo momento dell'osservazione viene determinata la proprietà diceva prima Federico una visione estrema viene creata o comunque si può affermare che esiste una proprietà oggettiva e di conseguenza per come è strutturato il sistema fisico la situazione dall'altra parte c'è la palla rossa quindi questa è la grossa differenza prodotta dalla meccanica quantistica io mi riferisco alla teoria standard quindi non tocco il problema delle interpretazioni di cui si è parlato prima io mi riferirò sempre alla teoria standard così com'è però tocco una domanda perché questo? perché questo cambiamento radicale nell'impostazione della fisica la fisica prima dava sempre proprietà ai sistemi erano palle puntiformi erano palline stese quadrate rotonde campi si scioglievano ma era sempre qualcosa oggetti con proprietà definite perché adesso in meccanica quantistica c'è questo cambiamento radicale e si arriva al punto di dire che se prima di fare la misura non c'è un colore definito non è legittimo affermare che c'è un colore definito il motivo è per certi versi semplice perché in meccanica quantistica i sistemi fisici si possono trovare in quelli che vengono chiamati stati di sovrapposizione lo stato di un sistema può essere la somma matematicamente è proprio la somma di due stati diversi come se fosse colore giallo più colore rosso e la teoria ci dice che quando lo stato è di questo tipo funziona anche con una una sola non occorre avere la seconda quando sono in uno stato di sovrapposizione questo potrebbe essere uno stato di sovrapposizione non sappiamo se è giallo o se è rossa non possiamo affermare che la palla è gialla o rossa perché questo sarebbe uno stato diverso la palla gialla o la palla rossa è uno stato diverso dello stato di sovrapposizione questo si può verificare sperimentalmente e quindi si pone il problema di affermare che cosa significa come interpretare lo stato di una sovrapposizione non può essere giallo più rosso giallo o rosso non può essere sono stati diversi non può essere quello non ha senso dire giallo e rosso non ha senso dire che entrambi i colori sono arancioni cos'è giallo e rosso la soluzione adottata dalla meccanica quantistica con tutta la sua formulazione standard con tutta l'ambiguità che questo vuole dire è rinunciare a rispondere alla domanda in qualche modo non posso dire non riesco a dire che non riesco a dare una una descrizione oggettiva dello stato di sovrapposizione non lo chiamerei oggettiva perdonami le parole dello stato di sovrapposizione non corrisponde a un elemento di realtà potremmo dire quindi rinuncio a descrivere dello stato è la storia del gatto di Schrödinger che tutti voi credo abbiate sentito questo gatto nella scatola che tipicamente si dice che è vivo e morto questa è un'affermazione sbagliata non è vivo e morto non è tutte e due le cose contemporaneamente è uno stato in cui se noi prendiamo la lettera la teoria applicata al gatto non possiamo fare nessuna affermazione circa lo stato di salute del gatto questo gatto è come se fosse sospeso in un limbo è una suggestione anche questo è corretto dirlo ma è come in un limbo tra il vivo e il morto e lo stato viene determinato solamente in un momento in cui io apro la scatola guardo e determino lo stato di salute del gatto vivo sfortunatamente morto incidentalmente quando Schrödinger nel 35 propose questo esempio scrisse vi propongo un esempio ridicolo perché lui voleva criticare la teoria la teoria non ha senso in questa formulazione non ha senso parlare in questi termini l'esempio del gatto non è per supportare la teoria ma per cercare di demolire la teoria o l'interpretazione che si dava alla teoria però questa è un'altra questione quindi questa è quello che ci dice la meccanica quantitica quando gli oggetti sono quando io non guardo prima di guardare un oggetto il suo stato non è definito non c'è giallo e rosso da qualche parte dobbiamo rinunciare a pensare che ci siano proprietà definite in situazioni incidentalmente questo sarebbe uno stato entangle se fosse uno stato quantistico io userò poco questo termine non perché non perché non lo amo ma perché poi l'effetto principale è quello delle correlazioni arriva Einstein arriva il 35 è la data simbolo ma in realtà siamo ben prima siamo queste critiche cominciano ben prima Einstein che cosa dice Einstein Einstein è insoddisfatto dalla teoria prima è stato parlato di immagine del mondo Einstein era insoddisfatto dell'immagine del mondo che offriva o che meglio non offriva la teoria questo suo pragmatismo questo suo operazionalismo estremo per certi versi non posso parlare di un oggetto delle sue proprietà posso solo parlare di quello che succede quando guardo Einstein era insoddisfatto non era d'accordo con questa impostazione della fisica era insoddisfatto anche da questo indeterminismo di fondo la meccanica quantistica dice che quando io guardo adesso lo sapete già cos'è se riprovo quando io guardo le proprietà vengono create ogni tanto è rossa anche a sinistra vengono create ma in maniera del tutto casuale non è possibile predeterminare gli esiti degli esperimenti di misura era insoddisfatto da questi elementi della teoria la comunità dell'epoca lo ignorava in queste critiche dice adesso lo storico il filosofo della scienza non sono io quindi io banalizzo un po' la cosa e dico stai perdendo colpi vecchio mio fatti da parte che sta arrivando il nuovo sta arrivando il nuovo che avanza le tue sono solo fregnacce di un antico aristotelico allora Einstein però fece una cosa intelligente scemo non era Einstein fece una cosa intelligente cercò di porre la questione sul piano della fisica cercò invece di criticare l'impostazione filosofica per certi versi della meccanica quantistica la visione del mondo che negava non che forniva ma che la meccanica quantistica negava la portò sul piano della fisica e Einstein fece la seguente osservazione ripropongo diceva ok colleghi supponiamo che voi abbiate ragione che è vero che in natura non possiamo più non rinunciare a una descrizione oggettiva delle proprietà dei sistemi microscopici non posso dire qua se la palla è gialla o rossa non è legittimo pensare che la palla abbia proprietà oggettive le proprietà emergono solamente quando io faccio la misura guardo è rossa bene però succede questa cosa in questi stati particolari qui si è automaticamente determinata la proprietà perché se qui è rossa lì deve essere gialla non c'è ambiguità di sorta lo dice anche la teoria lo afferma e infatti è gialla ora io ho le braccia abbastanza lunghe ma se fossero lunghe parecchi chilometri cosa succederebbe questo sarebbe ancora più evidente che guardo qui determinano le proprietà anche qua prima di fare la misura non ci sono l'avete visto non ci sono proprietà definite guardo qui determina anche qua questo è un effetto non locale e qual è e qui dobbiamo apprezzare qual è la differenza tra il caso classico e il caso quantistico questo è uno degli elementi fondamentali nel caso classico questo è per le macroscopiche non c'è nessun effetto non locale i colori c'erano anche prima la palla era una gialla una rossa è nel momento in cui io guardo è la mia conoscenza che è cambiata cambia qui cambia anche là non è cambiato lo stato di queste palle era sempre giallo e rosso prima e durante e dopo è la mia conoscenza soggettiva che è cambiata cambia qui cambia anche là pace ma la dinamica di queste palle qui è una dinamica locale non succede niente non succede di particolare i colori erano anche prima meccanico quantistica invece è diverso si sta parlando dello stato del sistema è lo stato non è solo la mia conoscenza è lo stato che cambia misuro cambio lo stato qui automaticamente anche se non misuro ho cambiato lo stato anche qui questo è un effetto non locale perché non riguarda la mia conoscenza dello stato del sistema riguarda anche lo stato del sistema cambia istantaneamente a distanza qui e là e quindi Einstein diceva colleghi miei il mondo è locale lo dice la teoria della relatività l'aveva inventata lui non poteva contraddirsi lo dice la teoria della relatività lo dice quindi la vostra la vostra formulazione della meccanica quantistica è non locale non va bene è sbagliata qual è la soluzione? la soluzione è che questi i colori queste proprietà preesistevano alla misura la palla doveva essere gialla e rossa anche prima altrimenti ci sarebbe un fenomeno non locale la teoria quindi la vostra teoria è incompleta non è in grado di descrivere tutto i colori c'erano anche prima infatti questo famoso articolo del 35 EPR per chi conosce l'acronimo si intitola può la descrizione quanto meccanica della realtà considerarsi completa è posta come domanda la domanda è retorica perché alla fine l'articolo si conclude con mentre abbiamo in questo articolo abbiamo dimostrato che la descrizione meccanica quanto meccanica la realtà è incompleta rimane da capire come trovare una formulazione che la completi e questo Einstein non ci è riuscito all'epoca quindi è chiaro l'argomento Einstein introduce un elemento fondamentale la località la località è in tensione con la meccanica quantistica erano gli anni questi gli anni 30 anni di successi straordinari della meccanica quantistica nella descrizione della natura della descrizione della materia poi si affacciava la teoria dei campi quindi il mondo delle particelle elementari di nuovo sei un vecchio che borbotta statene buono non ci interessa e infatti Einstein è morto nel 55 dimenticato ricordato per altre cose ma certamente dimenticato per questo finché arriviamo a Bell già citato prima gli anni 60 e qui il gioco cambia devo arricchire devo complicare il gioco devo per spiegarvi tenterò di spiegarvi le famose disuguaglianze di Bell devo complicare il gioco quindi adesso non abbiamo lo portate da casa lo portate via mio figlio non si è manco accorto non si è dobbiamo parlarne adesso non parleremo più solo di colore parleremo per il gioco non lo faccio sarà solo perché non è facile parleremo anche adesso di altre due proprietà le forme quindi non più solo il colore ma la forma potrebbe essere una palla potrebbe essere un cubo mi è fuggito poi c'è il colore può essere quando li ho trovati in monocolori può essere sempre giallo-rosso palla gialla palla rosso giallo-cubo rosso e poi ci disegniamo anche una lettera quella di mio figlio curiosamente aveva una lettera la A, la B e poi anche non le ho scritte sulle palle A e B quindi palla gialla palla rossa con l'A con la B cubo giallo cubo rosso con l'A con la B allora il gioco anche questo lo cambio quindi sono tre proprietà il gioco lo cambiamo in questo modo prendo in prestito Federico che non dovete non occorre che si alzi supponete di avere qualcuno di voi se lo ricorderai i più giovani non so se hanno mai visto una cosa del genere tipo i quiz di Mike Buongiorno dell'epoca in cui Federico e io siamo in due cabine separate dichiaratamente isolati non possiamo comunicare l'uno con l'altro non possiamo quindi allestire le due cabine era un po' difficile si può verificare che sono a prova di interferenza non possiamo vederci non possiamo comunicare questo è non c'è nessun trucco da questo punto di vista e il gioco è questo che quindi non potevo scrivere Federico io ho scritto destra e sinistra destra e sinistra quel che è voi che siete il pubblico potete supponete che abbiamo queste maneggiamo con queste palle qua palle cubi quel che è potete fare delle domande su o la forma o il colore o la lettera che è disegnata sopra per esempio potete chiedere a Federico cosa ho scritto lì che forma hai tu quale delle due hai la palla al cubo e a me lo metto lui a sinistra o la mia a sinistra siamo qua la mia a sinistra e la mia a destra e a me potete chiedere ma che lettera c'è scritta e noi vi rispondiamo primo caso io ho una palla Federico dice io ho la lettera prendiamo atto di questo ripetiamo il gioco adesso chiedete ma quindi è gioco idealmente potrebbe cambiare quello che noi abbiamo con noi chiedete ma la forma la forma no il colore Federico chiede ma che colore è e a me anche a me che colore è e Federico vi risponde è giallo io vi rispondo è rosso e così via non faccio tutti i casi possibili il terzo caso è colore lettera e il colore per lui è rosso e per me la lettera B vabbè sembra un casotono un complicazione rispetto a prima e tipicamente sembrano risposte date a caso tranne per una cosa quindi risposte date a caso 50% metà delle volte una palla metà delle volte un cubo metà delle volte gialle metà delle volte rossa tutto 50% tranne per una peculiarità se ci pensate adesso qui perché il gioco non si vede visivamente ma noi siamo separati e isolati tuttavia ogni volta che voi ci ponete una domanda relativa alla stessa proprietà nel secondo caso era il colore lo schermo qua mi balla non riesco a vedere nel penultimo caso era la lettera nell'ultimo caso era la forma noi rispondiamo in maniera esattamente opposta sarà sempre le due risposte diverse se uno dice giallo l'altro dice rosso se uno dice palla l'altro dice cubo se uno dice A l'altro dice B sono le correlazioni di prima allora bisogna qua pensarci un attimo la cosa anche di curioso com'è possibile com'è possibile che due persone che non possono parlare tra di loro nei casi indicati diano risposte che sono perfettamente corredate com'è possibile se volete drammatizzare la situazione supponete che spediamo Federico lo spediamo in Australia io resto qua o vado anch'io da qualche altra parte siete voi che decidete le domande a caso decidete le domande a un certo punto però decidete di dire adesso proviamo a coglierli in fallo e vediamo se rispondono in maniera sempre discorde chiedete a lui in maniera quasi contemporanea non possiamo uno non può sentire uno non può sentire neanche la domanda che viene fatta all'altro quindi uno non necessariamente sa che anche all'altro sta posto la stessa domanda le due cose sono completamente separate a lui chiedete colore io non so che lui avete io non so che lui avete chiesto del colore però poi lo chiedete anche a me lui dice giallo io invariabilmente dirò rosso questo spero che concordiate che è un qualcosa di curioso sarebbe una forma di telepatia sarebbe come è possibile che a distanza senza sapere niente senza vedersi senza parlarsi senza sapere neanche quello che sta succedendo l'uno rispetto all'altro invariabilmente in certe situazioni precise noi rispondiamo sempre in maniera perfettamente corredata non località la telepatia è una forma di non località c'è una risposta molto semplice a questo che era quello che diceva Einstein ci siamo messi d'accordo prima molto semplice prima di iniziare il gioco un giorno due giorni prima ci siamo messi d'accordo su cosa fare e Federico io cosa abbiamo deciso guarda alla prima domanda tu ti pigli la palla gialla col blu io mi piglio quello opposto il cubo rosso con la lettera B palla gialla con la lettera il cubo rosso con la B quindi se ci vengono chieste domande a caso risponderemo apparentemente a caso ma nel momento in cui ci verrà posta la domanda sulla stessa proprietà è ovvio che daremo risposte perfettamente correlate perché lui ha la palla gialla con la A e io ho il cubo con la B e io ho il cubo rosso con la A va da sé che le risposte devono essere perfettamente correlate nel secondo caso poi per rendere più drammatica la cosa alla seconda domanda cambiamo tutto lui si prende il cubo giallo con la B io mi prendo la palla rossa con la A di nuovo se fanno domande a caso rispondiamo in base a quello ma sembrerà casuale ma se ci fanno domande o sulla forma o sul colore o sulla lettera risponderemo in maniera esattamente opposta perché così abbiamo deciso prima e così via anche per tutte le altre il gioco si svela da sé nessuna telepatia cioè semplicemente messa d'accordo è impossibile adesso nel mondo nel futuro nessuno lo sa ma è impossibile che due persone siano telepatiche che possano a distanza essersi messe d'accordo e dare risposte esattamente concordanti o esattamente discordanti devono in qualche modo esserci un trucco o si parlano ma non è questo il caso si può escludere o si sono messe d'accordo prima che cos'è la morale di questo gioco che sembra esserci una forma di telepatia non può essere non può essere questa telepatia ci deve essere una risposta ci deve essere un trucco le risposte erano decise prima ma qui mi va un po' sotto che è l'analogo di quello che diceva Einstein la forma in gioco di che diceva Einstein la meccanica quantistica sembra avere questa forma di telepatia questa forma di non località non va bene non può essere le proprietà devono già esistere prima questi elementi di realtà sono già esistenti prima la teoria non mi contempla perché è una teoria incompleta siamo nel 1935 adesso arriva Bell arriva Bell e Bell per ragioni interessanti che non si può qui spiegare si mise a riflettere su questi problemi e in particolar modo lui in maniera diversamente dagli altri prima non si soffermò solamente di fronte a questo lato stupefacente delle perfette correlazioni quando si parla delle sue proprietà ma analizzò tutta la statistica anche quando venivano chieste domande su proprietà differenti l'analizzò tutte e in particolar modo questa è l'unica pernodata di equazione che vi presento lui calcolò la somma di queste probabilità le probabilità basta fare l'analisi delle risposte e si vedono le probabilità associate la probabilità che a sinistra era Federico che alla domanda sulla forma Federico risponda una palla e io risponda sul colore risponda rosso più la probabilità e così via la somma di queste probabilità si può dimostrare che se noi ci siamo messi d'accordo prima sulle risposte perché non siamo telepatici io e lui almeno finora non siamo mai riusciti a parlarci a distanza se siamo messi d'accordo prima la somma di queste probabilità deve essere più grande di uno bene la meccanica quantistica e i sistemi quantistici questa è una disuguaglianza di beh qualcosa più grande di qualcos'altro una disuguaglianza i sistemi quantistici vivono questa relazione la disuguaglianza è più piccola di uno e questo adesso cercherò di spiegarvi il senso di questo e questo è valso il premio Nobel no? ai fisici due anni fa nel 2000 nel 2000 non l'anno scorso nel 2022 il premio Nobel della fisica per aver dimostrato anche ma in particolar modo questo fatto di natura questo quindi è la teoria che dice che è minore di uno ma è anche la natura che dice che è minore di uno perché c'è la verifica sperimentale che cosa significa questo? allora cerchiamo di ripetere di riprendere di ripercorrere quello che abbiamo visto prima l'argomento di Einstein era le correlazioni queste correlazioni ci sono più la richiesta di località mi dice che le proprietà erano preesistenti no? palla gialla palla rossa io ho le correlazioni non possono emergere mettersi d'accordo sul momento esistevano anche prima Bell dice bene se è così vale una disuguaglianza la disuguaglianza è violata quindi l'ipotesi di partenza è sbagliata l'ipotesi di partenza sono due correlazioni e località le correlazioni non sono sbagliate perché sono parte dell'evidenza sperimentale sono quindi è sbagliata l'altra ipotesi che è la località è la non località quantistica che è instita nel teorema di Bell e nella violazione delle sue disuguaglianze quindi in un certo senso Einstein aveva torto quando Einstein diceva criticava la meccanica quantistica perché ha effetti non locali Einstein qui aveva torto questi effetti non locali ci sono vado a conclusione allora questo è un risultato che è difficile forse ma ci vuole tempo per apprezzarlo ma è un risultato stupefacente che è uno io potrei anche personalmente dire il risultato più importante nel ventesimo secolo non sarebbero tutti d'accordo con me ma certamente è uno dei risultati più importanti del ventesimo secolo infatti c'è stato anche il primo Nobel c'è stato queste correlazioni quantistiche sono qualcosa di particolare che non ha un corrispettivo nella fisica precedente non località in particolare ma non località tecnicamente c'è anche nella fisica classica c'è la legge di gravitazione universale che si studia a scuola che quindi immagino che voi tutti conoscete che la forza gravitazionale tra due corpi è proporzionale al prodotto delle masse e va con l'inverso del quadrato della distanza è tecnicamente un'interazione non locale tecnicamente però in qualche modo è un'interazione che vive nello spazio i due corpi sono nello spazio e la forza dipende dalla distanza queste correlazioni invece quantistiche trascendono lo spazio non sono non dipendono dalla distanza la teoria ci dice e finora gli esperimenti confermano che non è importante che queste due palle siano così lontane lontane chilometri o migliaia di chilometri finora gli esperimenti si fermano a migliaia di chilometri sono sempre della stessa natura e della stessa intensità e quindi per quello che possiamo immaginare adesso sarà sempre così anche a distanze più elevate e se si considera quindi la storia dell'universo da un punto di vista quantistico queste correlazioni sono nate tanti tempo fa e sono lì ancora nasce quella forma di olismo di cui parlava Federico prima si può dire in termini più o meno filosofici più polari che in qualche modo siamo tutti connessi se ci consideriamo dei sistemi fisici soggetti alla fisica quantistica questa divisione questa separazione in sistemi isolati persone isolate che si muovono perde un po' di consistenza se tutti correlati in una maniera intima non è una maniera evidente non è che non possiamo fare la telepatia quindi non c'è questa non è una non località sfacciata che ci permette di spostare gli oggetti a distanza di fare chissà che cosa questo non accade però è lì è una località che è sussurrata in qualche modo ma che è stata dimostrata sperimentalmente la speranza questa perlomeno è la speranza mia che prima si è parlato di immagini del mondo che quindi non tanto sulla meccanica quantistica io sono scettico che dalla meccanica quantistica possa emergere un'immagine del mondo perché è dichiaratamente dal mio punto di vista questo soggettivo una teoria che ambisce a fare questo quindi secondo me è un programma destinato a fallire ma il risultato più importante della meccanica quantistica che è la non località secondo me quello è il seme per una nuova immagine del mondo che secondo me potrebbe anche essere un'immagine positiva vi ringrazio per l'attenzione ok grazie adesso possiamo iniziare con la parte delle domande ok poi se è possibile andare anche poi nelle aula stream numero 3 mi sembra sì 3 se vogliamo iniziare da qui con domande brevi se è possibile se ci sono delle domande buonasera io volevo chiedere al professor Bassi ma quando una pallina io scopro una pallina quindi la osservo e quindi contemporaneamente determino anche il colore dell'altra pallina questo meccanismo si immagina che abbia un vettore che trasmette l'informazione oppure non ha senso no non c'è un vettore che trasmette l'informazione non c'è un segnale che viene propagato io parlo dal punto di vista formale parlo è un effetto istantaneo di cambio dello stato di entrambi i sistemi questo è quello che dice la teoria chiaramente di nuovo la teoria non offre una descrizione di quello che succede in termini quello che succede perché si può parlare solamente degli esperimenti di misura non dice cosa succede come sono le proprietà prima degli esperimenti di misura la teoria semplicemente dice che lo stato cambia istantaneamente da una parte e dall'altra cosa questo significhi a livello di di proprietà del sistema non è chiaro però non c'è una forza che è un segnale un vettore che si propaga incidentalmente questo è il motivo per cui anche questa non località non è così evidente se ci fosse il segnale che si propagasse a un certo punto potrei intercettarlo il segnale e quindi dire ah toh ti ho beccato andavi più veloce della luce e invece no questo non c'è quindi è questo che rende le cose complicate più misteriose nella loro comprensione ok ma quindi questo principio di non località questo questo cambio istantaneo di di stato delle particelle viola viola la relatività e quindi saremo destinati a riformulare la relatività o la meccanica quantistica quindi uno dei due è destinato a cadere oppure si è trovato già un modo per allora non c'è una risposta condivisa la domanda o meglio c'è una parte della risposta che condivisa la domanda che a livello pratico non c'è questa violazione perché il il cambiamento istantaneo dello stato si accompagna anche col fatto che tu non puoi decidere come cambia lo stato qui sono due cose di nuovo le due cose di cui ho parlato lo stato cambia istantaneamente da una parte dall'altra però in maniera casuale coincidenza vuole e in fisica le coincidenze ne c'è una spiegazione ancora non c'è che il modo in cui lo stato cambia è esattamente quello esattamente quello necessario per impedire di utilizzare questo effetto non locale per fare per mandare segnali superluminali e quindi dal punto di vista pratico c'è una quella che è stata chiamata secondo me in maniera inappropriata una coesistenza pacifica tra meccanica quantistica e relatività speciale a livello sperimentale garantito a livello pratico c'è questa coesistenza pacifica a livello concettuale no se il mondo è un locale la relatività è sbagliata molto semplice per me è molto semplice una domanda ancora lassù vado io volevo chiedere cosa cosa comporta nel futuro questa scoperta cioè cosa potrebbe portare a livello scientifico la non località sì questa allora la non località ha già portato a dei risultati tecnologici vogliamo parlare di dati tecnologici di dati pratici che è garantire per esempio la sicurezza nelle comunicazioni questi fenomeni questo comportamento quantistico ha uno degli effetti è di questo tipo che si può garantire comunicazioni ultra sicure poi la non località non è tanto la non località è il risultato dell'entanglement l'entanglement è uno degli ingredienti base anche nella computazione quantistica la computazione quantistica ha un vantaggio rispetto alla computazione classica perché gli stati quantistici possono essere di questo tipo entangled allora è chiaro che nel computer quantistico uno tipicamente non fa computer qui più computer là e quindi se il computer qui fa una cosa il computer là fa un'altra cosa queste cose non si fanno però il funzionamento interno di un computer quantistico sfrutta questi stati entangled che sono gli stessi che sono alla base della non località quindi le ricadute tecnologiche ci sono già è chiaro che non sono ancora sul cellulare che si vedono e si usano quotidianamente c'è ancora in questa fase di trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca al mondo industriale un'altra domanda forse c'era lì ti faccio difficoltà a vedere qua grazie buonasera a me non è chiaro com'è stato preparato l'esperimento fisicamente siamo sicuri che l'esperimento non è stato preparato in maniera non locale e poi viene misurato in maniera non locale allora qui abbiamo un collega in rim che spero che non mi picchi a sangue se sono la risposta errata che è più competente di me ma tipicamente allora a meno che uno non invochi teorie cospirazioniste come si dicono in italiano cospiratorie teorie cospiratorie in cui tutto è predeterminato all'inizio quindi togliendo questi casi che sono patologici fisicamente filosoficamente e forse saremo d'accordo anche psicologicamente saremo d'accordo no l'esperimento è preparato localmente e viene fatto tipicamente non solo ma tipicamente con i fotoni due fotoni vengono creati qui inviati là vabbè pace sono come le due palline sono qui e poi non faccio vedere quello che c'è e poi le porto là le due misure sono locali una qui e solo qui una qua e solo qua ciò nonostante le correlazioni quantistiche sono diverse da quelle classiche quindi non c'è non c'è un qualche qualcosa di non locale nel lato della misura no e poi ci sono vari tecnicismi che sono stati quelli che venivano chiamati loophole qual è la traduzione italiana di loophole? scorciatoie delle scappatoie che sono state via via escluse erano proprio dei casi anche quelli ipopatologici ma lo stesso la comunità li ha presi seriamente e li ha esclusi sperimentalmente quindi in questo senso non c'è nessun trucco c'è la non località no no ma io non intendevo parlare di trucchi no no ma nel senso trucco nel senso popolare no nel senso che la misura effettuata su un sistema perturba anche la misura sull'a ha garantito questo la non località la misura fatta qui perturba il sistema qua certo però la misura fatta qui è fatta qui ma sì perché ho preparato lo stato prima l'ho proiettato su un autovalore che poi ovviamente cioè lo preparo prima in quel modo lì lo stato l'hai preparato in uno stato entangled che non è autostato se parlo in termini mi pare di capire che conosciamo un po' la matematica abbiamo preparato lo stato in uno stato entangled che non è autostato con un autovalore definito degli osservabili che vado a misurare misuro qui determino l'osservabile automaticamente viene determinato anche là prima lo stato non aveva valore l'osservabile non aveva valore definito qua è l'entangelo l'entangelo è proprio di quel tipo l'entangelo è tale che l'osservabile non ha valori definiti l'osservabile di riferimento non ha valori definiti né qui né là prima della misura misuro qui lo definisce anche qua c'è anche una domanda lì vicino dietro grazie sì giusto se capivo bene se tu li prepari definiti alla fonte il meccanico quantistica puoi farlo questo li prepari definiti alla fonte è come uno stato classico non sono quelli che ho considerato la meccanica quantistica permette di fare altre cose sono quelli di cui stavo parlando io avrei una domanda come si fa a sapere che il valore non è predefinito no non è allora oddio adesso qua vediamo questa è l'assunzione della teoria che il valore non è predefinito la teoria nella sua formulazione da libri di testo quella che possiamo chiamare la formulazione ortodossa asserisce che il valore non è predefinito lo dice la teoria poi la natura che è la completezza poi la natura fa quello che vuole potrebbe essere generalmente la natura fa quello che vuole esattamente come le palline gialle e rosse tu puoi allora esattamente tu puoi e questa è la meccanica bomiana per dirne una tu puoi rileggere quello che io ho detto dicendo che le palline avevano colori anche prima colori definiti quindi Einstein poteva avere ragione su questo la meccanica quantistica è incompleta i colori erano definiti anche prima ma io ho spostato l'attenzione Einstein prima di tutto alla località anche se tu adotti questa posizione questa interpretazione che i colori le proprietà esistevano prima ed è possibile ed è coerente con gli esperimenti rimane la non località le correlazioni sono là le proprietà qui non è che vengono create usa il verbo che vuoi se la crei qui la crei anche là non sarà così perché esistevano anche prima ma se tu tocchi questa istantaneamente si muove anche questa non località o il colore se tu cambi il colore qui lo cambi anche là si muove nel senso che assume uno stato ben definito le proprietà che tu stai dando cambiano le proprietà stiamo parlando tu mi stai parlando che le proprietà esistevano anche prima le proprietà se tu la cambi qui la cambi istantaneamente anche qua se io ho il modo di colorarla questa di rosso questa diventa automaticamente gialla in realtà non è che la cambio la misuro e ne conosco lo stato no no deciditi la proprietà la proprietà esisteva prima sì o no quale interpretazione adotti la proprietà esisteva prima sì o no diciamo di sì bene esisteva prima se tu fai la teoria qualunque teoria che tu vuoi fare sarà tale che giocando con le proprietà qui modificherai le proprietà qua le proprietà esistevano anche prima vabbè giochiamoci con le proprietà la modifichi qui la modifichi anche là istantaneamente a distanza non località quantistica una teoria che non fa questo una teoria tale che se tu modifichi le proprietà qui ci vuole un po' di tempo per modificare le proprietà là sarebbe una teoria che soddisfa le disuguaglianze di Bell e quindi è falsificata sperimentalmente perché gli esperimenti hanno violato le disuguaglianze di Bell una teoria così la puoi fare la teoria locale la puoi fare è empiricamente falsa una domanda per il professor laudisa buonasera a tutti io sono più per il campo letterario quindi esco un pochino dal seminato ricordando filosofia mi viene in mente Dilte con filosofia delle scienze i primi trattati di letteratura con Dante la quest di acqua e terra uno tra i primissimi nella prima letteratura del 200 ma attualmente di fisica di meccanica quantistica filosoficamente anche in campo letterario perché comunque è trasversale chi se ne sta occupando proprio dal punto di vista di trattatistica cioè se uno volesse andarsi a leggere un saggio attualmente chi se ne sta occupando dunque allora se ne occupano un sacco di gente allora il lavoro che si fa nel campo filosofico su queste cose è legato all'in larghissima misura diciamo all'analisi di queste diverse interpretazioni quindi per questo io ho sottolineato questa circostanza per cui la diciamo l'evidenza sperimentale salvo appunto le vicende che sappiamo però l'evidenza sperimentale non seleziona in modo naturale una interpretazione sulle altre non lì sarebbe facile perché c'è l'esperimento cruciale o qualcosa del genere ci dice quella è sbagliata e quella è questo non succede quindi la discussione in questo senso diventa in maniera rilevante filosofica si sposta sui criteri per cui dovremmo preferire una interpretazione rispetto all'altra anche in filologia se uno volesse interpretare un manoscritto deve prima andarsi a vedere gli antecedenti si fa uno stemma codicum per cui si confronta un manoscritto uno, due, tre, quattro poi si incrociano e alla fine esce un manoscritto che vada comunque a riprendere le teorie più o meno le postulati degli altri però andando a incrociare tutto tutto l'insieme chi è che cioè per chi si vuole avvicinare con questa disciplina chi magari dal punto di vista filosofico letterario che alla fine è più disciplinare sono un po' in difficoltà con l'aggettivo letterario onestamente no letterario nel senso c'è c'è una letteratura delle letture letterariamente nel senso che si va a leggere una saggistica che si va a leggere nel senso come lettura no appunto quella a cui facevo riferimento che è quello che mi viene da indicare è una letteratura che appunto per una parte consistente si confronta con diversi modi di interpretare quella stessa struttura teorica no che di cui un esempio appunto ci ha dato il professor Bassi le correlazioni quantistiche sono un fatto con una ricaduta empirica molto chiara indiscutibile no la cosa complicata è cercare di comprendere il significato complessivo significato in termini di cosa c'è là nel mondo come è fatto il mondo là fuori se deve rispettare queste correlazioni allora ci sono vari modi di concepire cosa vuol dire interpretare no un modo è prendo queste correlazioni così come sono no in un certo senso paradossalmente una interpretazione è non interpretarle i filosofi amano molto queste cose perché dicono questa è anch'essa un'interpretazione perché scegliere un'interpretare è un'interpretazione anche questa però una possibilità è questa dobbiamo accettare questo fatto come un fatto di natura appunto e questo mi basta altri dicono no questo è troppo poco per una scienza che si rispetti quindi voglio capire meglio come è fatto il mondo che genera questo tipo di comportamenti e allora mi devo interrogare cosa vuol dire costruire un'immagine del mondo con certe proprietà e quello è un compito tradizionalmente di carattere filosofico cioè i filosofi hanno nel tempo immaginato una serie di soluzioni a questo tipo di problemi concettuali e i filosofi contemporanei vanno a cercare in questo armamentario delle indicazioni su utili per costruire un'immagine che renda questi fatti sperimentali un po' più comprensibili ecco questo in larga misura è quello che fanno i filosofi della fisica quantistica poi naturalmente c'è tutta la dose di specializzazione che vale anche per questo campo come tutti però questo è un po' quello cioè quando appunto Angelo Basso su questo siamo d'accordo cioè quando una parte consistente della fisica diciamo pensa che o non vuole ritenere l'ambito interpretativo parte della scienza stessa cioè solo come al limite un capriccio ma non parte della missione della scienza ecco questo alcuni lo mettono in discussione cioè oltre a essere un compito divertente dal punto di vista concettuale cioè impegnativo sfidante è anche parte della scienza ed è sempre stato così prima non si capisce perché con la meccanica quantistica devi smettere di essere ancora qualche domanda perché si sta facendo un po' tardi quindi se è possibile breve ecco qua grazie intanzitutto spero sia breve volevo capire meglio quando noi misuriamo lo stato di un sistema in entanglement posso sapere se ho misurato lo stato dopo che è avvenuto il collasso cioè se è già stato causato dal sistema accoppiato o se in quel momento c'è stato poi l'altro collasso puoi riformulare la domanda scusami nel momento in cui ho misurato lo stato di un sistema due sistemi in entanglement se io ne misuro uno e quindi automaticamente sto facendo anche collassare l'altro giusto quando ho misurato posso sapere se quello che ho misurato era già stato definito prima cioè se non è più in sovrapposizione o se in quel momento ho causato il collasso allora tu hai due particelle correllate tu dici misuro una e vuoi sapere se erano se già qualcuno aveva misurato l'altro lo puoi sapere nel senso che tu allora devi sapere nel senso che tu fai le allora si parla sempre in termini statistici si parla quindi non basta un esperimento devi fare la statistica degli esperimenti se tu fai mille esperimenti in cui uno ti ha preceduto prima per così dire senza che tu te ne accorgi se tu fai le misure di correlazioni sono diverse da quelle che avresti se non ci fosse stata la misura quindi te ne puoi accorgere in tal senso no non puoi comunicarlo perché c'è sempre questa località delle informazioni però se uno ti ha fregato prima misurando ha collassato lo stato non è più entangled quindi tu non hai più le correlazioni che ti aspetti la statistica però veramente siamo perché bisogna andare ancora giù nelle altre quindi veramente ancora una se no arriviamo a mezzanotte buonasera grazie la domanda chi indovina il colore la domanda scusa una brevissima domanda grazie per gli interventi apprezzatissimi dove è? sono qua questa tensione che crea la meccanica quantistica e nello specifico la non località è qualcosa di biologicamente innato in noi umani o è il risultato di un'evoluzione cioè l'abbiamo sempre persa questa proprietà di non località cioè non ce l'abbiamo mai avuta l'abbiamo persa con la nostra evoluzione è qualcosa che biologia quantistica è più per Federico direi come domanda si è scaricato no allora onestamente non sono sicuro di di aver capito bene lo spirito della domanda cioè a un certo punto mi vierebbe da dire a un certo punto dello sviluppo cognitivo dell'essere umano siamo stati abbastanza intelligenti cioè sono stati abbastanza intelligenti da scoprire effetti non locali in natura no? e questo relativamente a una teoria che al di là dei dubbi sulla sua fondamentalità o no però è una teoria che copre un ambito di fenomeni enorme però il come dire il dominio di applicazione della teoria è molto diverso da quello in cui noi ci poniamo problemi su che cosa siamo riusciti evolutivamente a comprendere quindi è una scala molto lontana quindi non riesco bene a metterle vicine a collegarle in modo da dare una risposta ecco non so se Federico volevo tradurre questa cosa l'ha detta anche bene se l'entangma esisteva prima della nascita di un PhD eh sì no sì sì è così è così allora eh solo che davvero non riusciamo più perché devono andare a allora se voi state ancora qui se non so potete sentire anche le domande dall'altra aula e non potete farlo perché sono e quindi adesso a questo punto non so ancora un'ultima va bene un'ultima se può consigliare due libri ah lei a noi va bene scusate ma non è presunzione si finisce ma di imparare in base alle domande fatte no chi ha chiesto chi dell'esperimento sul rentalment suggerisco un libro scritto proprio da chi l'ha fatto che è Zillinger non so a Vienna Zillinger che lo descrive tutto ciò che fa lui e tutto ciò che fanno lui e i suoi collaboratori quindi potrebbe essere un libro consigliabile si mi sembra che ha scritto un libro Zillinger un po' di anni fa il bello di Einstein no ma proprio su tutto il periodo ciò che hanno fatto per compiere l'esperimento l'altro l'altro è inaspettato in un libro di Camilleri come la penso un capitolo dedicato a una sua conferenza tra letteratura e scienze dove lui vedeva le due cose separate finché non ha incontrato Heisenberg attenzione non fisicamente ma leggendo alcune sue cose queste sono due cose che potevano intendo volevo a voi consigliare le limitazioni io dico solo una cosa veloce che se sono dei giovani non farei domande se avete la pazienza di aspettare quando torniamo su tanto andiamo a tornare a prendere i computer rispondiamo anche se gli altri vanno quindi se avete il tempo e la pazienza di aspettare andiamo giù noi torniamo su poi torniamo le palle le tengo io grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti